iPhone 15 scassato. Benvenuti in un nuovo video. Già avete capito dalla mia espressione e dal titolo e dalla copertina. Allora, partiamo dal fatto che penso che l'iPhone 15, soprattutto l'iPhone 15 Pro Max, sia veramente un prodotto pro a tutti gli effetti. E' ottimo per chi crea contenuti come me, quindi chi fa il content creator, lo youtuber, per chi lo usa a livello professionale, vuole un camera phone professionale. Adesso c'è anche la possibilità di collegare le harddisk in USB-C per fare i video in ProRes in 4K a 60fps, quindi ti permette di farlo grazie all'harddisk collegato. Tante belle cose. Lo zoom 5x praticamente emula un obiettivo da 120 mm, ok, tutto quello che volete. Ma se tu compri un iPhone 15, anzi 15 Pro, 15 Pro Max, che comunque costa quello che costa, ok, parliamo di telefoni non da 300 euro, parliamo di telefoni da 1.300, 1.400, 2.000 euro, a seconda dei terabyte di spazio che è andata a prendere. Cioè se tu compri un telefono, magari lo compri per livello professionale, tipo me, e lo prendi il più capiente possibile. Quindi l'ultra, adesso vediamo quanto costa Apple.it. Adesso andiamo a vedere il costo, che non me lo ricordo, prima di dire una bagianata. Andiamo su acquista, no, questo è il 15, il 15 Plus non mi interessa. Vediamo un pochino, iPhone 15 Pro. Ok, acquista, siamo sul sito Apple. Il 15 Pro Max parte da 1.489 euro. Quanto spazio ti serve? Allora, eccolo lì. Allora. Ok, allora. L'iPhone 15 Pro Max da 1 terabyte costa la bellezza di 1989 euro. E non c'è nemmeno l'alimentatore nella custodia. E non c'è nemmeno una custodia. Vabbè, 2.000 euro. Ok? E lo usi magari a livello professionale. Per ripese, video, fai il videomaker, insomma. Ti ritornano questi soldi che vai a spendere. Però, se tu spendi 2.000 euro per un telefono, di tutto rispetto, materiali ultra premium, quando prendi in mano un iPhone Pro, lo capisci subito la differenza rispetto agli altri telefoni. Anche rispetto ai Samsung di alta gamma, tipo l'S23 e quant'altro. Che comunque ha un display eccezionale e fa video in 8K. L'iPhone non c'è ancora riuscito. Però, detto questo, 2.000 euro di telefono. E cosa succede? Ti accorgi che scalda. Ma scalda davvero tanto. Cioè, scalda talmente tanto che può andare in blocco. Se tu compri 2.000 euro di telefono, costa come un motorino, come una scooter, e si blocca. Poi senti i rumors da Apple, pubblicazioni che leggi su Internet. No, perché col... Prima era tutta la mia. Col titanio c'è meno dissipazione e quindi scalda di più. Il processore è un po' più potente. E quindi alcune app non sono state ottimizzate o comunque usano troppo processore quando si potrebbe evitare. Ma al consumer, quindi al cliente, non gliene frega niente. Non puoi pagare un telefono come un motorino, ok? Come uno scooter usato. Tanto che mi trovi anche nuovi, volendo in certe mani. E avere un telefono che scalda, che si blocca, fa casino. Di cosa stiamo parlando? Ma perché? Perché questo... Io sono un po' dell'idea che molto probabilmente all'epoca quando c'era il buon Steve Jobs ci sarebbe stata sicuramente più attenzione. Anche se vorrei ricordarvi che quando era uscito l'iPhone 4 c'era stato il problema dell'antenna che se tu la tenevi in mano l'antenna perdeva il segnale perché la cornice dell'iPhone faceva tanto. Tutt'ora fa tanto. Quindi secondo me è un prodotto che gli vale questi soldi? Mettiamo di sì perché comunque tu riesci a avere in tasca uno studio televisivo completo. Ti permette anche di fare l'editing dei tuoi video direttamente dal dispositivo e fare un editing professionale. Riuscire a creare un prodotto da zero senza dover utilizzare il computer tramite un telefono. Incredibile. Lo si fa anche con altre marche ma vi assicuro che la piacevolezza dell'utilizzo di un dispositivo Apple è veramente incredibile. Ma se poi compri un telefono da 2000 euro ed è scassato perché c'ha dei problemi Apple non va assolutamente bene. Non che uscirà la patch d'aggiornamento uscirà quando uscirà. Non va bene. Devi rimborsare i tuoi acquirenti. perché non è possibile creare un prodotto con titanio spaziale lo stesso che viene utilizzato sui rover su Marte. Va bene. Tutto quello che vuoi. Design fotocamera che riescono a emulare una 120 mm grazie a un sistema di specchi nell'obiettivo che permette appunto di emulare un obiettivo grosso così tramite l'obiettivo dell'iPhone. Va bene. Bravissimo. Ingegnerizzato da Dio. Ma se poi ci sono problemi o abbassate i prezzi e quindi fate pagare il telefono in una maniera un po' più ragionevole oppure il dispositivo deve funzionare non c'è santo che tenga deve funzionare e deve essere perfetto come un orologio svizzero. se non è così e purtroppo più andiamo avanti più i problemi software sono sempre più frequenti perché iOS sta diventando veramente un disastro non è più l'iOS di una volta mi piace dirlo questo diventa un serio problema. Rimpiango ogni tanto il mio buon dispositivo Lumia della Microsoft il 950 XL che all'epoca era un camera phone che era imbattibile poi lo potevi collegare con la docking diventava un pc ragazzi anni luce comunque anche Samsung fa il discorso di collegamento anche con i pc ma anche ad Apple sta cosa peccato potrebbero fare un dispositivo che attacchi a un monitor diventa un pc sarebbe fantastico userai solo quello io però chissà magari un giorno quando finalmente uniranno i sistemi operativi in un unico tipologia di sistema operativo e prima o poi secondo me capiterà perché siamo veramente tanto così però detto questo vi ho voluto un attimino informare di queste problematiche che se comprate adesso un iPhone 15 vi comprate un iPhone 15 molto probabilmente scassato nel senso che ha problemi di suo riscaldamento quindi aspettate aspettate a comprare datemi aspettate gli sviluppi vediamo che cosa succede tanto vi terrò aggiornati sul canale mi raccomando iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati su altri argomenti di questo tipo attivate anche la campanella per notifiche mettete un like al video così mi aiutate a crescere con YouTube e soprattutto commentate che mi aiutate a crescere con l'algoritmo e quindi a ricevere più visualizzazioni a guadagnare più soldini e quindi a poter riportare sempre contenuti migliori su questo canale io vi ringrazio di avermi seguito noi ci vediamo presto in un prossimo video ciao ciao